La verità è una cosa strana. Risiede nel mondo. O nella mente. È costante. O può essere piegata. Chi decide che cosa è vero? In questo universo di luce e oscurità, non esiste un potere superiore. Ditemi, piccole luci. Qual è ora la vostra verità? La vostra verità è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.